Aprile 1986, disastro di Chernobyl, novembre 1987, referendum sul nucleare in Italia. Due temi strettamente correlati tra loro, particolarmente sentiti nel Piacentino, a motivo della presenza della centrale di Caorso. Come ha affrontato la vicenda Libertà per informare e dare risposte ai piacentini? Una domanda propria del giornalismo di cronaca, che ha incuriosito un giovane universitario piacentino dei giorni nostri fino al punto di farne l'argomento di tesi di laurea in storia all'Università Statale di Milano. Il fatto di utilizzare la Libertà e soprattutto le sue ricche rubriche, come ad esempio l'Ettere a Libertà Lunedì e la Voce del Pubblico, restituiscono un rapporto molto più stretto tra popolazione e giornali in primis e successivamente anche con la questione dell'energia nucleare e della centrale di Caorso. L'analisi di oggetti parte da quel 29 aprile dell'86, giorno in cui cominciarono ad arrivare le prime notizie sull'incidente alla centrale ucraina e va avanti per 20 mesi fino al giorno del referendum con il quale gli italiani decisero lo stop all'energia nucleare. Ho notato che c'è stato un rapporto di simbiosi molto stretto tra il quotidiano e la popolazione che poche testate possono vantare, sia a livello nazionale sia locale. Da subito Libertà iniziò a fare informazione anche di servizio. Trattò questo argomento e soprattutto rispose alle ansie e alle preoccupazioni della popolazione indicando come procurarsi eventuali rimedi, come ad esempio il caso delle pillole all'oglio odio. Un rapporto raro, secondo oggetti, quello tra la popolazione e Libertà. In cui questa viene percepita quasi come un compagno o comunque come un amico con cui confessare le proprie preoccupazioni e le proprie ansie. Positivo il giudizio finale del novello storico su come il quotidiano affrontò l'argomento. In maniera efficace, cristallina e rispondendo alle ansie della popolazione. Quindi svolgendo al meglio direi il ruolo che il giornalismo, soprattutto di respiro locale, deve avere.